Subito esordio in salita per l'Unitas Sciacca. Il sorteggio del calendario del nuovo campionato di eccellenza non è stato dei più agevoli. Il Comitato regionale della Lega Nazionale di Dilettanti ha pubblicato tutte le sfide in programma. L'esordio, domenica 12 settembre, avverrà in trasferta all'Esseneto contro l'Akragas, mentre la prima partita al Gurrera è prevista la domenica successiva, 19 settembre, contro l'Enna. Akragas ed Enna sono due delle squadre che, alla vigilia, vengono considerate favorite dagli addetti ai lavori per il successo finale del torneo. Queste le squadre che fanno parte del Girone A, quello dello Sciacca, nominate in ordine di calendario e di sfida con i Neroverdi. Akragas, Enna, Profavara, Nissa, Oratorio San Giro e Giorgio, Dolce Onorio Marsala, Mazzara, Monreale, Castel Termini, Castellammare, Cussi Palermo, Don Carlo Misilmeri, Canicattì, Mazzarese, già affrontate e superate in Coppa Italia, e Parmonval. 15 partite, di andata e di ritorno, attraverso le quali l'Unità Sisciacca spera di mantenere tranquillamente la categoria e far divertire i tifosi presenti allo stadio. In mezzo, anche il secondo turno di Coppa Italia di eccellenza, impegno che i Neroverdi vogliono onorare, sia per dare spazio a tutti i giocatori in rosa, sia per avere a disposizione altre partite casalinghe in cui coinvolgere i tifosi, dopo un anno e mezzo di incontri a porte chiuse e campionati sospesi. Da ieri, intanto, la società del presidente Gioacchino Settecasi ha aperto la campagna abbonamenti, che ha prezzi popolari e che terrà conto dei posti disponibili presso lo stadio Gurrera. 150 euro per la tribuna centrale, 120 per quella laterale, 100 per la gradinata centrale e 70 per la gradinata laterale, prezzi ovviamente per 15 incontri casalinghi. Se il campionato di eccellenza dovesse essere interrotto attraverso provvedimenti ufficiali delle autorità sportive federali o se dovesse essere sospesa la presenza di pubblico per il numero di partite rimanenti, l'abbonato potrà usufruire di un account esclusivo su gruppo chiuso Facebook per la diretta delle partite. In alternativa, potrà scegliere di utilizzare la restante parte di abbonamento per il successivo campionato.